In seguito a numerose segnalazioni e proteste dei cittadini contro compagnie che non rimborsano i consumatori per prestazioni non usufruite a causa dell'emergenza coronavirus, spiega il presidente Codacons Cilento Bartolomeo Lanzara, stiamo procedendo con richieste di fine verso gli operatori pubblici e privati per ottenere rimborso in denaro o un voucher di pari importo. I rimborsi vanno dai voli aerei cancellati alle palestre chiuse, passando per abbonamenti allo stadio, trasporti pubblici, biglietti per concerti, spettacoli, mostre, teatri, treni, vacanze cancellate e un'infinità di altri servizi acquistati e non usufruite a causa del coronavirus. Infatti non esiste settore in cui il consumatore non sia stato danneggiato. Con il nuovo DPCM è diventato impossibile spostarsi dalle zone arancione o rosse verso altre regioni se non per comprovate motivi di lavoro, salute o necessità varie. Di conseguenza bisogna restare a casa, per questo molti cittadini non possono o non vogliono spostarsi in aereo, trascorrere vacanze, recarsi in palestra o piscina per la paura di possibili contagi. Sul caso dei bohacer dei rimborsi in denaro non riconosciuti, il Codacon aveva già presentato un esposto ad Antitrust e Commissione Europea con Dino Lanzara per contestare la decisione del Governo di introdurre nei vari decreti il bohacer come unico strumento di rimborso in favore degli utenti. Infatti il comportamento di molta azienda è di rifiutare di insercire in denaro i propri clienti danneggiando in modo evidente i diritti dei consumatori e configurandosi anche il reato di appropriazione in debita.